Il cinema di rigore a San Sebastiano. Tutta questa gente però è qui per fare i bagni, non per acclamare i divi giunti da ogni paese in occasione del nono festival internazionale. 20 nazioni hanno inviato la loro migliore produzione. Della giuria fa parte Dolores del Rio, una competente d'eccezione. Peccato che non si tratti di film muti. Gli attori al palazzo del festival passano sotto un arco di spade, salgono tranquilli e sorridenti. I loro film infatti non sono stati ancora presentati e quindi non corrono nessun pericolo.